Che bell'intro che abbiamo fatto, che bell'intro con una scena memorabile di Matrix Film che ai giovani sembrerà un po' una roba un po' vintage, un po' datata Perché Matrix in un canale horror? Questo è un argomento che mi interessa Perché poi alla fine, se ci pensi Ciao Skull Cage, ciao Luca Carda, ciao Thomas, grazie di essere qua Se siete qua, se siete qua è perché, ditemi se si sente l'audio, se si sente tutto bene Se siete qua è perché avete scelto la pillola rossa O l'avevate già scelta perché seguitelo e non aprite questo blog Che io ritengo sia un canale che affronta la vita e il cinema in modo molto diverso Perché dico che Matrix è un horror? Perché, cazzo ragazzi, se conoscete la storia sapete che è una realtà spaventosa quella lì Quella realtà di illusione, una realtà in cui le persone credono di essere libere e non lo sono Perché ho fatto questa allegoria tra Matrix e il cinema E il modo di guardare il cinema e di guardare, di scegliere ciò che ci piace, ciò che non ci piace Perché, secondo me, Matrix rappresenta un po' quello che sta diventando il mondo oggi Cioè un mondo in cui siamo un po' schiavi In una prigione, diciamo, una prigione invisibile In cui i contenuti che noi vediamo sono totalmente scelti da qualcun altro Poi, piano piano, mi spiego meglio Comunque, il tema principale è questo Poi parleremo anche, appunto, di serie tv Del motivo per cui, secondo me, friggono il cervello È tutto inerente a questo grande discorso dei contenuti commerciali E propinati dalle piattaforme Una volta era la televisione, oggi sono le piattaforme, oggi sono i social Che vi propinano ciò che dovete amare E poi, pian piano, vediamo tutto Poi, dopo aver un po' parlato di tutti questi argomenti Voglio ritagliare un piccolo spazio per Nightmare Symphony Che è il film di Domiziano Cristofaro Che uscirà con Detro Video nel 2021 L'ho visto, ho fatto la recensione È un tributo a Lucio Fulci Però ne voglio parlare anche qua Così, insomma, per chi non ha letto la recensione Per chi non sa leggere, diciamo E poi vi parlerò Insomma, parlerò di Sarà un dissim generico verso Un dissim, ma in realtà io lo chiamo dissim Ma in realtà è una critica nei confronti dei giovani Che io chiamo 2.0 Il tema è Voleva fare l'influencer La triste storia del giovane 2.0 In questa frase, in questo titolo Che mi sono inventato tanto per ridere C'è nascosto Ci sono nascoste tante tematiche Che mi interessano Che riguardano Il parlare di cinema su YouTube Su Twitch Su Facebook Sui social Essere un influencer Anche piccolo Però, insomma Ne parleremo E poi, infine, parleremo Di N.A.Q.B. Allo in party E poi, infine Vi farò vedere 8 film che ho scelto Dalla mia collezione Adesso ti massacro Luca Carda Scherzo Alcune serie tv Alcune serie tv Sulle piattaforme Meritano però Qua non ci sono però E ti spiegherò E spiegherò a tutti voi Perché non ci sono però Perché Il discorso è molto più alto Qui non si tratta di Ciò che è piacevole Ciò che è gradevole Ma sto parlando di cultura Sto parlando di cultura Di crescita intellettuale Ed emotiva Quindi ci rendiamo conto Che Parlare in termini di Piacevole Piacere Gusto Insomma Non è questo il tema Nel senso che Vi è infacile dire Che Twin Peaks È una grandissima serie Che Insomma, vabbè Le serie di una volta Erano anche concepite In modo diverso È facile dire Che Breaking Bad È una grandissima serie Che Appunto The Boys È una grandissima serie Grandissima Poi Riferito a che cosa Riferito a che cosa Perché se io prendo Adesso entro già nel vivo Ma se io prendo Shining E lo metto su una bilancia Questo grandissimo Termine Grandissimo Che viene usato Per le serie tv Come lo possiamo Ridimensionare Vi rendete conto Anche voi Che stiamo Osannando Qualcosa Che è comunque Un prodotto Estremamente commerciale Ed estremamente Inutile per la crescita Inutile per la crescita Intellettuale Di chiunque Perché io non conosco Serie tv Che siano Minimamente Memorabili Se non appunto Stiamo parlando Ragazzi Qualcuno di voi Conosce Il nome E cognome Di un regista Di serie tv Che non sia David Lynch Famoso Non per Twin Peaks E basta Famoso per Eraser Ed altri Film Eccezionali Quindi Quello che Sul piano Su cui voglio portare La discussione Non è Però C'è una serie Bella Una serie brutta Perché Sennò Arriviamo al punto Che Diciamo Eh però The Conjury Uno è bello Sì ok È bello Ma per chi Per cosa E in che modo Lo possiamo considerare Memorabile Non è memorabile Sono già entrato Troppo dentro Al discorso Quindi adesso Faccio un bel respiro E poi ne parliamo Con calma Comunque Siete qua Perché avete Le vostre idee E le rispetto Tantissimo E va bene Adesso mi dici Ryan Murphy Io sinceramente Non so chi sia Ryan Murphy Forse è un nome familiare Però sinceramente Non so chi sia Mi vuoi dire Che Ryan Murphy Adesso magari Faccio la figura Ignorante Però vado a vedere Chi è Ryan Murphy Ah Ryan Murphy È quello che ha fatto Ti dico solo questo Che Ryan Murphy È il creatore Di Glee Ok Che è una Una merdata È il creatore Di Nip and Tuck Che è un'altra serie Del cazzo È il creatore Di American Horror Story Che è una serie Orribile 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 proprio È una cosa Inguardabile Sono tutti prodotti Questi Che io posso capire Piacciano American Horror Story Posso capire Che piaccia Ma Sono prodotti Di consumo Cioè Non Io voglio Qualcuno Qua in chat Che mi dica Che American Horror Story È equiparabile All'esorcista O alla notte Dei morti viventi O alla cosa O a qualsiasi Altro grandissimo Calt Di qualsiasi epoca Sessanta Settanta Ottanta Di cosa stiamo parlando Io rispetto tantissimo I vostri gusti Ma quello Che Il discorso Che sto facendo io In questo momento È Un discorso Intellettuale Non nel senso Che io sono Un intellettuale Ma La crescita intellettuale È qualcosa Che riguarda Anche l'ignorante Quindi me compreso Quindi anche le persone Ignoranti Quindi me compreso Che mi ritengo Tale Abbiamo Diritto A crescere Intellettualmente Ok Magari non diventeremo Dei grandi Esperti di cinema O Grandi menti Brillanti Però Abbiamo Tutti quanti Noi abbiamo Delitto Di crescere E questi prodotti Prodotti Appunto Le serie tv Sono prodotti Pensati Esquisemente Per l'intrattenimento E Quasi sempre Pensati Per il lucro Sono pensati Per il lucro Ma Non sono paragoni Da fare In che senso Ciao Sara In che senso Non posso fare un paragone Tra una serie tv E un È un È un film Certo che posso farlo Sono due opere filmiche È come se io Non potessi fare un paragone Tra un Non capisco perché Io sto parlando di arte Quindi se io parlo di arte visiva Quindi filmica Io posso parlare Di un cortometraggio Di un mediometraggio Di un lungometraggio Di una video Di un video art Di una serie tv Di un cartone animato Posso paragonare Certo che posso paragonare L'espressione artistica Perché se no Se ragioniamo Secondo questo punto di vista Allora io non posso Neanche paragonare Una commedia A un horror Non posso dire Questo film È un film Meritevole Questo film È un film Che ha poco Da dire Solo perché Hanno due generi diversi O perché Sono di epoche diverse Non è vero Che io non posso Paragonare Le serie tv Anzi Io devo paragonarle Perché il tema Che voglio affrontare oggi È il fatto Che le serie tv Sono prodotti Scadenti Che paragonati A prodotti Filmici Che nascono Con intenti Ben diversi Da Il mero Guadagno Richiedono Scusate Portano Portano Spesso e volentieri A parte i film Appunto Chiaramente Partoriti Con l'intento Di far soldi No Dico che non si può Paragonare American Horror Story Con dei capolavori Del cinema Certo che non si può Paragonare Hai ragione L'ho detto anch'io Ma quello che volevo dire Trovatemi una serie tv Visto che stiamo parlando Di un'opera filmica Ragazzi La serie tv È un'opera È un film A puntate Ok Perché il primo film Della storia Il primo film Della storia È L'uscita Dalla Dall'industria Scusate Dalla Dalla fabbrica Dei lumiere Dei lavoratori Quello è il primo film Ok Quindi Quello è un film Certo è un film Chiamatelo come volete Documentario Un film Storico Un documento storico Però è comunque un film Un filmato Ok Quindi tutto ciò che è un filmato Rientra nel film Quindi un documentario Un documentario Può essere un docu fiction Quindi Le sfumature sono N1000 Io posso paragonare Tutto quello che voglio Ora io vi sto chiedendo Trovatemi una serie tv Che sia paragonabile Artisticamente Che vi arricchisca Artisticamente Quanto può aver fatto un film Black Summer È una serie molto carina Ma non Non mi ha Assolutamente lasciato nulla Se non il fatto che È una serie che sa Attingere benissimo Da altre cose Ma non racconta nulla Breaking Bad Breaking Bad è un'altra serie Molto carina Che non racconta nulla Forse Breaking Bad È una di quelle Che si salvano un po' di più Nel senso che comunque In Breaking Bad Se voglio salvarla A livello di storia Devo ammettere Che c'è un'intrigante Analisi Di quello che Il personaggio Di come si evolve il personaggio Quando intraprende La carriera criminale E scopre Che il suo io In realtà Potrebbe essere Un altro tipo di Di persona Lost Non la considero Assolutamente un prodotto Ma adesso cosa facciamo L'elenco Ragazzi Cioè ma Io vi sto chiedendo Cosa paragonate All'esorcista Cioè Cosa paragonate All'esorcista Lost Breaking Bad Black Summer Non direi Quindi Quello che Quello che sto cercando Di fare Adesso non facciamo La parata Per cercare Di salvare Le serie tv Le serie tv Sono prodotti commerciali E sono E Il motivo Per cui sono qua A dirlo È che Non dico che Non vanno visti Ok È come È come il mcdonald Non è che Non si può mangiare La mcdonald Ogni tanto O non si può dire Che mcdonald È buono Quello che voglio dire È che Sappiamo tutti Che dentro I panini di mcdonald Non c'è carne Non c'è vera carne Non ci sono prodotti Sani Questo Diciamo Paragone Che sto facendo È per spiegare Che le serie tv Per quanto possano Essere intrattenenti Simpatiche Tutto quello che volete Sono prive Quasi sempre Nella maggior parte Di casi Prive di contenuto Intellettuale Prive di Non lasciano niente Da un punto di vista Emotivo E Intellettuale Di crescita Se penso Per esempio A film horror La stessa cosa accade Con i film Chiaramente Non sto dicendo Che tutti i film Sono Niente Paragonabile All'esorcista Per fortuna Perché Ovviamente Io Sono impopolare Cazzo Stare qua A parlare male Delle serie tv È ovvio È ovvio Che sono impopolare Perché Perché io sono uno stronzo Devo per forza Andare a rompermi I coglioni Ed è quello che farò Perché Io ritengo anche Che Il fatto di guardare Così tante serie tv Io non so perché Mi sento sempre Il capellino storto Il fatto di guardare Così tante serie tv Fa male Al cervello Nel senso che Appiattisce Il vostro gusto E vi rende Molto più insensibili A tutto ciò Che è diverso Innanzitutto Perché le serie tv Se ci fate caso Sono Ancora più Omologate Da un punto di vista Di fotografia Recitazione Dialoghi Sono ancora più Omologate Rispetto ai film Di Hollywood Che hanno già Un loro standard Che va rispettato Perché se voi Prendete Le commedie americane Hanno degli standard Se prendete Il film action Hanno degli standard Quindi Tutto questo per dire Che secondo me Guardare così tante serie tv E prodotti infimi Creati da Netflix O anche da Prime Cioè prodotti Di largo consumo Prodotti commerciali Appiattisce tantissimo La capacità Di Provare interesse E capire Il gusto Insomma capire La qualità Di cose strane Cose particolari Come il cinema indipendente Il cinema indipendente È un cinema Che sicuramente È pieno di difetti Ma quelli che sono i difetti Cioè Quelli che Vengono percepiti Come difetti In realtà Non sono difetti Lo diventano Nel momento in cui Tu sei abituato Tutti i giorni A vedere Quel tipo di fotografia Perché guardi Decine e decine Di serie tv Su Netflix O su Prime Quindi A furia di Allenare il tuo occhio A abituare il tuo occhio Ad avere quella fotografia Quel modo di fare Quel modo di far battute Quel modo di scrivere dialoghi Quel modo di fare Qualunque roba È evidente Che se tu prendi Un prodotto indipendente Che non ha tutto questo Hai una sensazione Molto strana Di qualcosa che Ti dà repulsione quasi Perché dici Ma che schifo L'audio non è così L'audio non è così L'immagine non è patinata Come piace a me Eccetera eccetera Questo In realtà È un limite mentale Perché Il cinema indipendente In realtà Non è Necessariamente Brutta La fotografia O brutta Le immagini Perché non si è capace Di fare una cosa Diciamo Omologata Agli altri stili A volte è una scelta Proprio È una scelta Stilistica Il fatto che qualcosa Sia rozzo Che sia Suoni male Dia fastidio Può essere una scelta Può essere È un po' come Nell'arte pittorica Chiaramente ci sono Dei pittori Che sono Un po' più standard Un po' più Classici Che fanno delle cose Più vendibili E poi ci sono Dei pittori Che fanno delle robe Che sono dei Pugni in un occhio Questo non li svaluta Però Come qualità artistica Del prodotto Semplicemente Quello che fanno loro Nessuno se lo metterebbe In salotto Ed è un po' Quello che succede Con i prodotti Appunto Commerciali Che troviamo Che troviamo Sulle piattaforme Ma anche al cinema Anche al cinema È un po' come I film Dei Vanzina O questi film qua Se ci fate caso Sono tutti fatti Nello stesso modo Questo non perché Loro non sappiano Fare i film In un altro modo Loro hanno trovato Una formula Che piace Va bene così Non hanno nessun interesse A prendere Un format così Comunque Che non ha nessuna Velleità artistica Intellettuale E cambiarlo Quelli sono fatti Per fare soldi E la stessa Cosa vale Per le serie tv Ok Io ero un divoratore Di serie tv E ora ne guardo Quasi più Ma a volte Mi va di guardare qualcosa Che mi trattenga E basta Io vi dico una cosa Sono molto Molto E rimaniamo sul tema Delle serie tv Che mi interessa Perché poi Da lì Poi Ovviamente Questo discorso Non Non arrampichiamoci Sugli specchi Per cercare Di trovare La falla E' ovvio Che Mi riferisco Anche al cinema Commerciale Il cinema Come possono essere I film Io li chiamo Film tv Perché i film prodotti Da netflix Sono fondamentalmente La stessa L'equivalente Di quelli che una volta Erano i film tv Cioè i film prodotti Per il pubblico Di quella piattaforma All'epoca La piattaforma Era la televisione Quindi il canale 5 La rai Eccetera Eccetera Ora è netflix Quindi questi film Fatti da netflix Hanno proprio Quell'aria lì Cioè anche se Alcuni sono fatti Un po' meglio Eccetera Eccetera Hanno proprio Quell'aria Da Da film Che Sono un po' strani Perché danno Una sensazione Plasticosa Ma anche Incompiuta Come se Se veramente Dietro non ci fosse Qualcuno Che Ha un'idea E la vuole portare avanti Ma piuttosto Un tentativo Di far denaro E basta Cioè di riempire Il palinsesto Se ci pensate Netflix E anche prime Sono tutte piattaforme Che mettono a contratto Attori famosi Più o meno famosi E gli fanno fare Decine di film Infatti Vi capiterà spesso Di vedere Nelle stesse serie Negli stessi film Gli stessi attori Io solo per questo Non capisco Come fate A non sposare Al 100% Quello che vi sto dicendo Perché Stiamo parlando Cioè di guardare Fin dove ci sono Gli stessi attori Riutilizzati Come se fossero Carne da macello Ma non è Un regista Che ha il suo attore Feticcio Con cui ha un rapporto Di cui si fida Qua stiamo parlando Di prendere le pedine E piazzarle Qua e là E avere Prodotti scadenti Con attori Come appunto Mi ricordo John Malkovich In un film orrendo Un film horror Sulla pittura Su un pittore C'era questa Parte di John Malkovich Buttata lì a caso Scritta giusto Per ficarci dentro John Malkovich Perché serviva Una quota Di attori famosi All'interno di questo film Di Netflix Quindi capite Che Quanto possono essere Infime queste cose Dario Argento Farà una serie di tv Secondo te Andrà su Netflix Su Prime Allora Questo non lo posso sapere Perché non mi sono informato Però hai tirato fuori Una cosa interessante Così rimaniamo Thomas Così rimaniamo Nel tema Perché voglio approfondirlo bene Perché poi Non voglio che la gente Mi Fraintenda È interessante Perché tu stai parlando Di un regista Che Ha fatto delle cose Innovative Da un punto di vista Stilistico Fighe Che hanno condizionato Tutto il cinema mondiale Perché ragazzi I registi americani Che adesso Fanno tanti fighe Hanno imparato Delle cose Da appunto Dario Argento Lucio Fulci Eccetera Perché loro ne capivano Non come noi qua Che distrattavamo Lucio Fulci Però che cosa Cosa vi devo dire Appunto Dario Argento Ha quest'indole Però poi Ha fatto anche Di filmacci Orrendi Non si capisce Come abbia potuto Arrivare a tanto No? Come abbia potuto Quasi veramente Non far più Ricordare Il talento Che era Ed è un po' E ha fatto anche Un po' bene A fermarsi A un certo punto Perché se devi Rovinarti La carriera Cioè rovinarti Il nome Con una serie Di porcherie Non ne vale Più Non ne vale La pena Quindi dipenderà Questa serie tv Dipenderà Tanto Qual'idea Ha dietro Perché secondo me È una serie tv Breve Quindi Che ha pochi episodi Ed è pensata Non come un Franchise Che deve durare Diecimila anni Ma proprio Una specie Di film tv A puntate Come poteva essere Il vecchio hit Non è neanche Una cosa così malvagia Però poi Veniamo anche Dopo veniamo anche Al discorso Della durata E del contenuto Perché secondo me C'è una grande regola Che è una regola Che noi dovremmo Sempre tenere presente Quello che voglio dire È che io non so Quali sono Le motivazioni La spinta artistica La spinta economica Cosa c'è dietro Questa serie tv Quindi non lo so Se sarà fatta bene O fatta male Ma comunque Posso scommettere Abbastanza facilmente Che essendo una serie tv Non sarà un prodotto Che Lascerà Il segno E dopo Dopo che avremo parlato Tanto di questa roba qua Io vi farò vedere Otto film Presi così velocemente Dalla mia libreria Che lasciano Il segno E vi sfido Vi sfido E non sono cult Come ho citato prima Non sono cult Che ho citato Come ho citato prima Sono film Anche recenti Ci sono dei cult Ma ho preso anche Dei film recenti Per farvi vedere Come in questi film Ci sono Aspetti Tematici Sociali Antropologici Emotici Legati all'emotività Alla natura umana Alla sociologia E quanto questi film Lasciano Allo spettatore Qualcosa Su cui pensare A cui pensare Se siete amanti Dell'horror Amanti dei film Sapete benissimo Che un bel film Vi lascia Uno strascico È brutto dire uno strascico Perché sembra Una cosa negativa Ma vi lascia Come una specie Di impronta Addosso Che vi Si trascina Per uno o due giorni A volte Alcuni film Anche un mese No? Io ne ho parlato In passato Alcuni film Mi hanno proprio Mamma mia Cioè Non pensavo ad altro Ci ripensavo Ci ho fatto Video Recensione scritta Ci ho fatto Di tutto e di più Cioè Quindi Sono film Proprio che Che ti Che ti lasciano Tanto a cui pensare E che poi Se li vai Vai anche a documentarti Di più Di quello Che avevi già Come bagaglio culturale Scopri anche Delle cose Quindi impari Io mi chiedo Che cazzo si impara Guardando American Horror Story Cosa si impara? Che dei furbastri Sono riusciti a prendere Tutto l'horror possibile Nel mondo E riciclarlo Dentro a Dieci serie tv Di cui poi Se vado a parlare Con le persone Mi dicono La prima è brutta Però la seconda È fighissima La terza fa schifo Però la quarta Non è male Ma di cosa Cazzo stiamo parlando? Stiamo parlando Di una cioffeca Di serie tv Sì Che potrebbe Anche essere Un po' carina La seconda La terza La quarta La quinta Ma che cosa Vi è rimasto Di queste serie? Che cosa Vi è rimasto? Mentre invece Per i film Vi garantisco Che soprattutto Se seguite una pagina Come la mia O seguite anche Altre pagine Interessanti Vi renderete conto Che vi vengono Suggeriti dei film Pazzeschi Pazzeschi Io stesso So di poter Prendere consigli Da persone Che seguono me Che ne sanno E prendere Il loro feedback Come Come Per dire Ah se me l'ha consigliato È probabile Perché magari Ci si conosce col tempo È probabile Che questa cosa Sia interessante Poi chiaramente I registi bravi Li conosciamo E non sappiamo Tutto del loro passato No? Come io Non avevo mai visto L'ultima Casa a sinistra Di Wes Graven Che tra l'altro È il suo primissimo Sì Wes Graven Scusate Io ho Il Apsus Sì Madonna mia Che Perdonatemi Ma già l'altro giorno Ho detto La casa dei cento corpi Invece che mille Sì Ok Allora Non è vero Tutto American Horror Story È una serie Contro pregiudizi Discriminazioni E vari tipi di razzismo Allora Lo prendo per vero Perché non l'ho vista Quindi È giusto Che io non mi possa Ammettere Certo qua Lo prendo per vero Perché mi fido Cecamente E quindi Prendendolo per vero Ti dico Sarà anche vero Che American Horror Story E qua Tocchiamo Tocchiamo Al punto Dolente Che American Horror Story Al suo interno Visto che I due Due autori Sono gay Ok I due autori Perché io Non ho visto la serie Ma io quando parlo Le robe Se dico Che mi sono Rotto il coglione Non la voglio vedere Non voglio sprecare La mia vita Io non voglio sprecare No Allora Tu stai dicendo È che non hai la pazienza Di guardartela Ma io non mi sognerei mai Di buttare la mia vita A guardare American Horror Story Ti spiego perché L'ho già fatto Sbagliando Con The Walking Dead E non lo rifarò Questo errore Perché Non è giusto Che dei film E dopo arrivo ai film Che ho scelto Non è giusto Che dei film In un'ora e mezza Ti lasciano Un segno indelebile Nell'anima Cambiando la storia Cambiando le persone Cambiando tutto E io mi E in un'ora e mezza Lo fanno Ed io mi devo guardare Dieci stagioni Ore e ore di roba Per un concetto solo Esplicitato anche male Perché per me Far vedere In una serie Horror Due personaggi gay Che si fanno Le moine E si mettono Le tutine Aderenti E fanno un po' Di sadomaso Scusatemi Ma io non sono Non ho vissuto In un convento Fino all'altro ieri Che mi scandalizzo Perché vedo Quei quattro cazzate Di giochini gay Che sinceramente Non Non mi turba La cosa Cioè non è una roba Che mi Oh mio dio No Cioè quindi Il fatto che loro Siano due autori Che hanno fatto Appunto Nick and Tap Nick and Tak Nick and Tap Quella roba lì Dei due chirurghi estetici Poi hanno fatto Glee Poi hanno fatto American Horror Non so Ragazzi Sono serie Piene zeppe Di gay Sono serie In cui loro Hanno potuto Inserire Delle persone Delle scusate Delle categorie Bistrattate E ancora tuttora Maltrattate In un paese Di merda Come può essere L'America Dove Veramente Il razzismo È uguale Identico A quando C'è stata La guerra Di secessione Allora Non mi sembra Corretto Parlar male Di una serie Che non conosco Che non ho visto Allora Non parlo più Cioè Nel senso Io posso anche intuire Che Di pentacolo ho vista E ho visto anche un pezzo di Glee Purtroppo Non è che io non posso parlare Di una serie Che non ho visto Secondo me Perché È sbagliato Nel senso che È come se io Non potessi È come se io Non ho Che ne sono Io non ho mai visto Uno che ha il covid E non posso esprimere Il mio parere Su La situazione Che c'è Non è vero Cioè Io posso documentarmi E Dire comunque Delle cose Poi è chiaro che Non posso fare La recensione Chiaramente Perché La recensione Prevede che tu l'abbia vista Ma io posso dire Visto che mi sono documentato E so Come nasce la serie E ho visto la prima E mi ha fatto schifo Posso decidere Che non mi metto a fare la danza Del Me la guardo tutta Dopo che ho visto Otto puntate Della prima Sette puntate Della prima stagione Sette puntate ragazzi Cioè Ho buttato via una marea di tempo Direi che basta E avanza Cioè Non Non ha Non ha presa Non ha Non ha contenuto E cioè Per me Quella roba lì Non ha contenuto Non sto dicendo Che non è Divertente No? È divertente Come può essere Diventente The Boys 2 Che è una serie Non horror Anche se c'è Delle robe splatter Che sto guardando Ma vi garantisco Che se voi Fruite decine di film Di un altro livello O Magari non film Diciamo Intellettuali D'autore Ma comunque film Indipendenti Anche Che nascono con un'idea Molto meno commerciale Di questa Vi No Non so Non sto dicendo Che non Allora Non sto dicendo Che Non sto consigliando Di non guardare Cioè Tant'è che ho anche detto Si può guardare Un prodotto Sono prodotti Che si possono guardare Semplicemente Ritengo Che guardare Questi prodotti Non è che io Devo guardare Tutti i prodotti Tutte le serie tv Del mondo Per dire che mi fanno Schifo le serie tv E che penso Che sono prodotti Che non hanno Contenuto Se io ho visto Decine di serie tv Non è che devo aver visto 10.000 Per dire che non hanno Contenuto Sono tutte quante Prive di contenuto Tant'è Che Nessuna serie tv È osannata Da nessun critico E da nessuna Da nessuna Rivista di settore Come si dice Rivista di settore Che Tratta il cinema D'autore Cioè ragazzi È cinema Quello è cinema Commerciale Su questo Mi sembra Che Cioè cosa devo fare Convincervi del fatto Che le serie tv Sono commerciali Che American Horror Story È una cosa commerciale Non lo so Ragazzi Non fraintendetemi Cioè Non sto dicendo Che È un prodotto Che se lo guardi Sia un decerebrato Sto dicendo Che a guardare Così tanti prodotti Di cui alcuni Si salvano Appunto American Horror Story A molti è piaciuta A me non è piaciuta Non la considero Neanche un prodotto Così Cioè Non è una questione di gusto Non lo considero Neanche così bello Nel senso che Per esempio La prima stagione Che ho visto Ha Un'attrice Che adesso non mi viene il nome La più anziana Molto brava Perché è un'attrice Che ha esperienza Che regge tutta la serie Fondamentalmente E gli altri Non sono per nulla bravi Anzi C'è Mi sembra La tizia lì Di The Conjuring Non di The Conjuring Di The Nun Vera Farmiga O insomma La figlia Non so chi è Che è una cagna mostruosa E non è l'unica Attrice cagna In quella In quella serie lì Quindi Il fatto che L'attrice Invece Più anziana Sia bravissima Non salva il fatto Che tutta la produzione Sia una produzione Piuttosto scadente Detto ciò Non sto Consigliando Di non guardare Sto dicendo Che guardare Le serie tv In questo modo Cioè In modo Incontrollato Quindi guardare Tutte le serie tv Che escono Come se fosse La biada Che viene data Alle persone Fa male Poi Oh ragazzi Se non siete d'accordo Fate come volete Io continuerò A guardarmi i film C'è anche Eliroth Dove? C'è anche Eliroth Come attore O c'è anche Eliroth Che dirige Un episodio O una stagione A me Eliroth Mi fa cagare Per esempio The newsroom E the morning Sono delle serie ottime Sia dal punto di vista Della forma Che della sostanza Ok Non lo so Ragazzi Non sto parlando Non sto dicendo Che i film Non sono Cioè che le serie tv Non possono essere Ottime Ok Però prima Ho fatto Un paragone Col fatto di dire Che è una serie Una grande serie Una bellissima serie Sì no Ho capito In American Horror Story Mi hai detto C'è Eliroth Ma non ho capito Se intendi Che è regista Di qualche episodio O se è attore Attore e produttore Ok Ma comunque A me Eliroth Per me Eliroth Non è sinonimo Di qualità O di O di A me per esempio Hostel Io ce li ho E sono divertenti Gli Hostel Scusate Gli Hostel Ho visto Dei film Alla Hostel Indipendenti Molto più fighi Molto più Disturbanti Credibili Hostel è Una versione Disneyana Di questo Di questa cosa Del Dei rapimenti Vabbè Perché chi l'ha visto Sa di cosa parla Ci sono dei film Che sono simili Più indipendenti Più sconosciuti Che ho trovato Molto più di impatto Vabbè Io sto cercando Di non divagare Infatti Infatti sto cercando Di non divagare Quello che voglio dire Io è che Le serie tv Potete anche dire Che sono belle Ma poi alla fine Facendo proprio i conti Se voi le paragonate Ai film E parlo di film Di tutti i livelli Sono inferiori Nel senso che Non portano Grandi Spunti di riflessione Non fanno crescere Intellettualmente Non so che cazzo Direvi ragazzi Se non mi credete Andate Provate a chiedere Ha un critico Di 90 anni Che ha visto Milioni di film E poi Vede Vedo una di queste serie E vediamo cosa vi dice Vi dice che Ci si pulisce il culo Con queste serie qua Poi se non credete A me Ragazzi Che vi devo dire Per me Questi prodotti Sono prodotti Che sono equivalenti A prodotti Consumistici Fatti da consumare Come se non ci fossero Domani Cioè proprio Non hanno l'intento Di lasciare qualcosa Hanno l'intento Di darti una roba A cui tu ti abitui E così posso farci Dieci stagioni Questa è la realtà Dei fatti Se poi Non vi sembra Un ragionamento Corretto Perché a voi La serie è piaciuta Che vi devo dire Continuate a guardare Io Quello che vi posso dire È che io Mi sono Selezionato Dieci Otto film Presi così Al volo Cioè volendo Potrei prenderli Anche a caso I film Però è vero anche Che nel cinema Ci sono tantissimi film Fatti tanto per Che non lasciano nulla Che non Che non argomentano nulla Dove non c'è niente Di intellettuale Da analizzare E che non lasciano Assolutamente niente Io ho preso Otto film Che ora vi faccio vedere E cerco di parlarvene Per farvi capire Che io Queste cose Che trovo qua Io sinceramente In Dieci stagioni Da dieci episodi Da un'ora Barra Quaranta minuti L'uno Scusate Stiamo parlando Di ore e ore Di Intanto pulisco gli occhiali Scusate Sono dato una ditata Ore e ore Di visione Di questa roba E io faccio Mea colpa Perché io per esempio Ho buttato via Mezza vita A guardare The Walking Dead Alla fine ho detto Vabbè Basta Mi sono rotto il cazzo L'ultime due stagioni Non le ho viste Qualcuno mi dirà Eh cazzo Proprio le più belle Ti sei perso Va bene ragazzi Come volete Questa è la mia idea E ora vi faccio vedere Che cosa non c'è Su Netflix Su Prime Sulle serie tv Su Canale 5 Su Rete 4 Su tutto il resto Parlo anche di film semplici Scoperti anche di recente Alcuni The Woman Un film Vabbè Io non so quanti di voi L'hanno visto Un film che parla Della figura Della donna Un film Sul maschilismo Sulla figura Della donna Sulla società Americana Un film pazzesco Un film anche Sulla natura Dell'uomo Sulla volontà Dell'uomo Di costringere Gli altri A vivere Come vivi tu Quindi l'imposizione Della libertà Un po' come In America Accade Che loro sono Portatori della libertà A suandi pistolettate The Woman Io Trovatevi una serie Che è Allo spessore Di un film Indipendente Piccolino Fatto Con pochi soldi Relativamente Chiaramente Pochi soldi Per gli standard Americani Eccetera Un film Che Che ha Insomma Che ha le sue Critiche positive Che va al Sundance Film Festival Non è la serie tv Di merda E questo è The Woman Cazzo E già qua Ci sono 3 mila tematiche Fighissime Ed è forte È un film forte Che ti segna Sulla brutalità Dell'uomo Contro la donna Ragazzi Ma di che cazzo Parliamo Andiamo Serie tv Che vi hanno Vi hanno Marchiato a fuoco Se non l'avete visto Fa niente Io non sono di quelli Stronzi che dicono Ah non avete visto Questo film Allora sei un fallito Anch'io Anch'io non ho visto Dei cult Se vi dico Un cult Che non ho visto Mi sputate in un occhio Anzi Ve lo dico Non mi vergogno A dirlo Perché l'ho visto Solo la prima parte Non l'ho mai visto Completo Sempre a spezziche Bucconi Non l'ho mai visto E.T. Ok Non l'ho mai visto E.T. Ok Basta Ho fatto outing Non c'è niente di male Insomma Ragazzi Non mi fate vederlo Mi rompe i coglioni Vedere sto cazzo Di ragnetto Sulla bicicletta Lo so che è un filmone Che per i bambini È super stupendo Eccetera Ma anche mio figlio È piaciuto Quindi vaffanculo Si vede che a noi Non ci piace E.T. Per cui Se non l'avete visto Fa niente Ma voi Trovatemi Una serie tv Che tira fuori Questa roba qua Essi vivono Essi vivono Cioè Non vi dico In che anno è Nell'88 Nell'88 Parlano di Di pubblicità occulta Di messaggi subliminali Di controllo delle masse Di Consumismo Di capitalismo Cioè Che cazzo Di che cazzo Stiamo parlando Io non lo so Io non lo so Cioè Questo è Questo c'è In una serie tv C'è su Netflix Questo non c'è Che vi devo dire Ah Parlavo di recuperare La recensione Guardalo subito The Woman Perché mi sembra Che neanche ho comprato È stupendo È stupendo Poi se vuole Puoi vedere Sono tre film In realtà Ma secondo me Si possono vedere Anche separati The Woman È una bomba Darling È carino Perché comunque In Darling Ci sono anche tematiche Legate Alla chiesa Anche lì Vedi Anche come vengono trattati I temi Come appunto Le molestie sessuali Da parte della chiesa Dalla parte della chiesa Io dico della chiesa Perché poi alla fine La chiesa tende sempre A proteggere A nascondere A pararsi il culo Ci sono anche Anche in Darling Che è un film Molto più piccolo Ci sono delle robe Un altro film Eccezionale Indipendente Sempre fatto però Con una certa Discreta somma E si vive un capolavoro Ciao Gonz Mi sono collegato In Italia Ma ho capito Di cosa stai parlando Ciao Dani Sono qua Che cerco Di spiegare Che le serie tv Fanno schifo Punto Anche se non le ho viste Lo ribadisco Lo ribadisco Lo ribadisco Non devo Cioè Non devo per forza Assaggiare la merda Per sapere che fa schifo E parlo Quando parlo di merda Intendo proprio Le feci Non devo per forza Mangiarmi le feci Per sapere che fanno schifo Ci si può arrivare Tramite Un minimo Di approccio Culturale Quindi ci si informa Si guarda un pezzettino Sai le feci per esempio Uno potrebbe avvicinarsi Odorare E dire No sai che c'è Probabilmente fanno schifo Quindi Secondo Non sono d'accordo Sul fatto che Non posso giudicare Tutta Si Non posso fare la recensione Non posso dire Se magari La seconda stagione È più bella Io mi fido Forse me l'avete detto Tu e Sara La seconda stagione È la migliore Ok È la migliore Però io perché Mi devo puppare Dieci stagioni Di American Horror Story Che Sinceramente Cioè ragazzi Io non lo so A me Mi sembra Una roba proprio Ma va bene Ma non è brutta Non è brutta Ma io mi chiedo Dove sta sta grandiosità In American Horror Story O in Black Summer O in Black Summer È una serie carina L'ho consigliata io Tante volte Ma ok Ma È carina E comunque Se facessero Black Summer Seconda stagione Terza stagione Quarta stagione Mi girerebbero i coglioni Perché che cazzo Ciavalle da dire Dopo che questa è scappata Dagli zombie E per ritrovare la figlia È andata fino In un altro posto E poi basta Che cazzo è successo È successo un cazzo Comunque l'altro film Col cazzo che troverete Delle Delle serie tv Che non ti va più la live A scatti Io sto andando bene Forse hai un problema Tu direte Prova a scollegarti Ricollegarti È Revenge Un film eccezionale Ragazzi Questo è un film eccezionale Toronto Film Festival Torino Film Festival Sunday Film Festival Chicago Film Festival Un film Dove Praticamente C'è Questa donna Giovane donna Che viene Violentata E C'è tutto il tema Del fatto Che comunque L'uomo Si sente legittimato A violentare La donna Perché Ha degli atteggiamenti Che lui Che l'uomo È convinto Che siano dei segnali Per cui è una persona Che si merita Quella cosa lì E questa è una cosa Brutale Terribile Che in un'ora e mezza Di film Adesso non so se questo Durò un'ora e mezza Però io vado Per standard Un'ora e mezza Di film Che cazzo devi fare Una serie Per questa roba qua No Questa roba qua Funziona Bellissimo È brutale Lascia l'amaro In bocca E anche un messaggio Che è quello Che non pensare Che siamo Delle povere Delle poverette Non pensare Che siamo delle donne E allora siamo Delle poverette Che non possiamo Difenderci Io l'ho sempre Detto Cioè le donne Hanno due braccia Due gambe Un cervello Non migliore del nostro Uguale Perché sono esseri viventi Poi magari un giorno Scopriranno Con degli Ma siccome io vedo Donne cretine Uomini cretini E viceversa Ritengo che comunque L'intelligenza Di una persona Sia indipendente Da il sesso Il colore della pelle O qualsiasi altra cosa L'unico fattore Determinante Che determina L'intelligenza Di una persona È chi è iscritto A I social DNAQB E chi no Quello è l'unico Fattore che vi può Permettere di Capire se una persona È stupida O no E se Se è iscritto È molto intelligente È molto Disponibile All'apertura mentale E al cambiamento E E se no No Detto ciò Appunto Parlando proprio di cambiamento Io non posso Dire in assoluto Che le serie tv Perché sarebbe sbagliato Che le serie tv Non saranno mai belle Non saranno mai prodotti artistici Ma è l'intento L'intento Che c'è dietro Commerciale Che Per ora Le rende semplicemente Dei cazzo di menù Di McDonald's Niente di più Niente di meno Climax Climax Una Ecco Questo è un classico film Di Che tu dici Ma di cosa parla esattamente Climax E io Te lo spiego Perché Non è chiaro Non è chiaro No Tu lo vedi Ti dici Ma cazzo Intanto è ispirato A un episodio Realmente accaduto Però Che cosa c'è dietro Perché non è un evento Che tu dai la colpa A qualcuno Di qualcosa È un Esatto Pillola rossa È un film Che Mette nel piatto Mette In questo Calderone Tutta una serie di emozioni Comportamenti umani Inquietanti Terribili Che ti fanno un po' Ballare la sedia sotto il sedere Insomma Dici Ti danno un'instabilità incredibile Ti fanno paura Hai paura degli esseri umani Hai paura Di te stesso È un film Sulle Sulle Emozioni Sulla Un film sulla paura Sulla paura Che genera L'altra paura Ma zio calma Quando vedi questo Ragazzi Io quando Io ho visto questo film qua L'ho già detto Cento volte Ma a me piace Bullarmi L'ho visto in anteprima Stampa Doveva esserci anche Dopo ci sarebbe stato anche Come cazzo si chiama Stavo per confonderlo Con l'altro regista Gaspar Noé Doveva esserci Gaspar Noé Per intervistarlo Ma io Avevo un impegno familiare Che alla fine Ho deciso di A volte bisogna mettere davanti La famiglia Le cose Tra l'altro mi sembra Che Gaspar Noé Parla anche di italiano Quindi sarebbe stato anche facile Fargli due domande Però chi se ne frega Insomma Non è che io sono uno Che va in brodo di giugio Perché vede La gente famosa O brava Perché lui è bravissimo E ce ne è ancora un bel po' Di film E voi intanto Vi chiedo di riflettere Ma dove sono Queste serie tv Così belle Così fantastiche Che lasciano il segno E vi sto facendo vedere Dei film che non sono A parte essi vivono Non sono dei classici Non sono dei film Che dici cazzo Eh però Hai citato solo Dei cult No Ci sono anche film nuovi Come noi Noi cazzo Cioè Ma noi ma porco zio Cioè noi parla Noi è un film Iper politico Ma anche molto umano Che parla Di noi Che odiamo noi stessi Perché Noi parla Dei doppelganger I doppelganger Sono i doppioni Delle persone Sono i doppi E chi è il nostro doppio Se non noi stessi Siamo il nostro doppio No? I nostri fratelli I nostri fratelli I nostri sorelle Sono i nostri doppi I nostri figli Sono la nostra replica E quindi Non veniamo poi Tutti da un unico Eh Diciamo Genere Non veniamo tutti Dalla stessa Dalla stessa specie Anche se qualcuno È nato in un paese Per cui ha Un'etnia Un colore diverso Siamo tutti esseri umani Anche se Anche se appunto Siamo diversificati Dalla cultura E dalle usanze Da tutta una serie di cose Dalle lingue Eccetera La lingua è la più grande La più grande barriera di tutte Quindi È un film Sul fatto che Noi Noi odiamo noi stessi Noi siamo Noi diciamo Per Noi siamo Noi siamo nati Dove siamo nati Per puro caso Potremmo essere nati Non da un'altra parte Potremmo essere Degli immigrati Messicani Per esempio Che vogliono andare in America Perché sapete che In Messico si vive Veramente male Ci sono tanti problemi C'è la povertà C'è il cartello La droga La criminalità La corruzione Pazzesca Dalla polizia Insomma Non si sta benissimo Tant'è che appunto Un film che vi consiglio È Atrox Che parla proprio Di queste cose qua E questo Questo è un film Che parla di tutto questo Facendo un'allegoria Pazzesca A similfiaba Una specie di fiaba Horror Futuristica E Trovatemela La serie Che parla di queste robe qua Così poi Con questo Con questo Modo Di raccontare la cosa Non Non la serie Che ti mette dentro La categoria Abistrattata La categoria Cioè Quello è Quello è Un altro tema Quello è Un tema Che io Non sopporto Non sopporto Perché Allora Intanto è complicato Però Diciamo Ai fini Della storia Non è giusto Doverne inserire Delle persone Che fanno parte Di categorie Meno Trattate Solo perché Devo Metterle Ok Se io faccio Una storia Ambientata In un paese Dove ci sono Poche persone Di colore Non è che posso Mettere Tanti personaggi Di colore Solo per fare Piacere a una Categoria Oppure mettere Dei gay In una storia Dove i due gay Non c'entrano niente Tanto per Quindi Non è un tema Che mi piace Molto Detto ciò Mi rendo conto Benissimo Che certe Categorie Hanno bisogno Purtroppo Hanno ancora bisogno Di essere protette Perché non c'è Veramente Tutta questa Modernità Di accettare Gli altri Di accettare Gli gusti Sessuali degli altri Di accettare Le donne Per esempio Una cosa Che non viene Poi molti film Parlano dei problemi Delle donne Le donne Non vengono Accettate proprio Come esseri umani Cioè non è Accettabile Che la donna Sia un essere umano Cosa intendo Per essere umano Cioè In grado Di poter decidere Per sé Se una donna Decide che domani Si fa crescere i baffi Non va bene Se non si vuole più Tagliare i peli Delle gambe Non va bene Perché allora Quel punto Deve essere per forza Una lesbica Non può essere Un'eterosessuale Della donna Che vuole farsi Che ne so Il pizzetto O vestirsi da uomo O fare un lavoro Da maschi No Non è libera E quindi Non è accettato Che la donna Faccia Delle scelte Vere Fa delle scelte All'interno Delle scelte Che gli sono state Permesse di fare E lo stesso accade A tutti noi Quando ci pupiamo Le serie tv I film tv Di netflix Le troiate Che arrivano Sui social network I film di merda Tutte le cose Pregevoli Come appunto Adesso io sono Un'ora che sto parlando Adesso tagliamo Un po' corto Perché poi dopo Non parliamo più Di tutto il resto Tutte le robe Fighe Come il film Di Domiziano Cristofaro Che è un tributo A Lucio Fulci Molto figo Molto bello Che si chiama Nightmare Symphony Che uscirà L'anno prossimo Con titolo video Non se lo caga Nessuno Io lo so Che voi Seguite me E un po' Ve le cagate Ste cose Però Domani esce La roba Esce la nuova stagione Di The Walking Dead E tutti dietro A guardare Va bene Va bene E soprattutto Va bene Che chi segue Non aprite questo blog Io lo so Perché se no Non mi sopporterebbe Cerca di fare Un ragionamento Più Approfondito Già di per sé Si è avvicinato Proprio perché fa Perché ama il cinema Indipendente Ama la cosa diversa La cosa strana La cosa fuori dal comune Fuori dal comune Bisogna ragionare fuori dal comune Perché vi ho messo Matrix? Perché non ragioniamo fuori dal comune Quello che io però voglio fare Perché io sono Sono vittima come voi Di tutto questo Cioè appunto Della merda che arriva Vedo la Vedo la The Walking Dead Lo spin off Guardo la prima puntata Mi fa schifo Non è giusto Che io perda la mia vita A guardare tutto The Walking Dead Solo perché Devo poter Averlo visto tutto Per dire Merda Non ci penso neanche ragazzi Ma neanche per sogno E non Non accetto neanche il fatto Di non poterlo dire Perdonatemi Vi voglio bene Accetto tantissimo Le vostre critiche Però Io posso Vedere un pezzo Di una stagione E dire Vaffanculo Perché? Perché non è un film Di cui Che dura un'ora e mezza Io ne ho visti dieci minuti No Stiamo parlando di una serie tv Di cui ho visto Le altre Dieci Dell'altra stagione Scusate Dell'altra serie Che facciamo Cagare Adesso Ho provato a vedere Questa qua E fa cagare E poi questa A tal proposito Dopo farò Una prova di live Con un altro Programma Che è un programma Ufficiale di twitch Che permette Di vedere Prime In diretta Insieme Game of stone Madonna L'ho odiata A me piaceva Perché io Da ragazzino Amavo tutte le cose Fantasy Giocavo I giochi di ruolo Quindi Un po' Il fantasy Mi è sempre piaciuto Tant'è che ci sono Dei film horror fantasy Fantastici Che mi piace Sono pochi Ma quando ci sono Mi intrigano tantissimo Cosa farò dopo? Guarderò Il secondo episodio Di The Walking Dead War Beyond Ma lo farò solo Perché voglio provare Questa piattaforma Che permette A chi è iscritto A Prime Di guardare con me La puntata Farò una prova Se mi rompo E la spengo Poi ve la finite Per i cavoli vostri Se volete guardarla Con me Proviamo Questa applicazione Anche perché Potremmo usarlo Appunto Per fare delle live Più frequenti Dove guardiamo Delle cose Certo Non lo farò mai Per vedere Un film di fulci Che magari È una cosa Appunto Di qualità E quindi Non vorrei mai Che tutto Finisse in cacciara Per cui Prima bisogna Provarla Questa applicazione Di sicuro Non mi metterei A parlare Sopra un film di fulci Mentre invece Su una serie Di merda Come quella lì Scusatemi Se lo dico Magari qualcuno Si offende Posso tranquillamente Fare questa prova Di Praticamente Prime Video Insieme a Twitch Molto figa Andiamo avanti Andiamo avanti Sono sicuro Che torneremo Sul tema Delle serie tv Però Cerchiamo di arrivare A una quadra Quello che vi voglio dire È Le serie tv Sono prodotti Commerciali Scadenti Se li paragoniamo A film Quindi se li paragoniamo A film Come appunto I film di fulci Di primi di Dario Argento Cronenberg Carpenter Film che ti lasciano il segno E che erano molto coraggiosi E che portavano Tematiche Strafighe Oppure i nuovi film Non ho finito Di farvi vedere I film Che volevo farvi vedere Mizzoma Che parla Della incapacità Di provare empatia Per i nostri vicini Quindi la società Com'è cambiata Com'è cambiata la società E l'empatia Tra le persone Fate solo caso Com'è cambiata La società Con il fatto del coronavirus Con il lockdown Con le mascherine Sono cambiate tante cose A volte mi sembrava in bene Invece secondo me Sono peggiorato Però Questo è un altro film eccezionale Trovatemi una serie tv Che vale 8 ore di serie tv Paragonate a 2 ore 3 ore di film Cioè Questo è un film lungo Però Non si sa perché Passa L'ultima casa sinistra Trovatemi una serie tv Che vi lascia questo Questo tormento Che c'è qua Di Wes Graven L'ho citato anche prima E poi infine Sembrerà strano Visto che mi è arrivato Ma me lo sto riguardando Quindi mi sono tornate in mente Tutte le cose The Human Centipede Il primo è un film sicuramente Con delle tematiche Un po' più Leggere Leggere Sembra un neofemismo Ma già il secondo Il tizio Insomma Insomma Il cicciottello Che Che mette in pratica Anche lui The Human Centipede È vittima di abusi sessuali È un È marginato sociale C'è tutta una critica Nei confronti Di questi mostri Che siamo noi stessi A generare Ed è Questo è Stiamo parlando di un film Che comunque non aveva Un grande intento Però ci sono Delle tematiche fighe Per esempio Nel terzo C'è la tematica Delle carceri Del razzismo Pesantissimo Però anche questo qua Per esempio Questo io non lo ritengo Un capolavoro Nel senso che Ti lascia Tante cose Su cui riflettere Ma è sicuramente Un film molto Molto divertente Tra i miei preferiti Alla fine Nel genere Come film di genere Film Dove c'è Insomma Splatter Violenza E cose Ripugnanti È molto divertente Però ecco appunto Mai mi sognerei Di dire Che è un grandissimo film Perché se io dico Che questo è un grandissimo film Allora La fontana della vergine Di Ingman Berman Che cos'è Oppure Altri film Meravigliosi Di Hitchcock Di Truffo Che cazzo sono Se questo Se io dico Che questo è grandissimo Quindi Ridimensioniamo un po' Il tutto Poi secondo me Le serie tv Viste In questa maniera Quindi senza la critica Puppandosi Tutto quello che arriva Con grande Eh ma io devo riempire Lo spazio vuoto Ma ragazzi Ma è pieno di film Vecchi Degli anni 30 Degli anni 40 Che vi giuro Sono delle sassate Nei coglioni Ma sono sassate belle Perché vi assicuro Che non vi deprimono Vi aiutano A proprio Allo sviluppo emotivo Io sto sputando Oggi Non lo so Vi Cioè Vedere questi film È veramente Un grande insegnamento Anche per una persona Della mia età Che ho 44 anni Non è che sono proprio Ragazzino Cioè È veramente Un'altra roba Io l'altro giorno Ho visto un film Di Fritz Lang Come cazzo posso pensare Di paragonare Quel cinema lì A questa cioffega Che vedo qua Cioè Adesso sto guardando The Boys 2 The Boys Viene da un fumetto Che io conoscevo Di cui avevo già Comprato i primi numeri Molto carino Niente di eccezionale Molto carino Il fumetto Molto bello Intrippante Insomma Non si erano viste Cose così violente Nei fumetti Raramente si vedono E la prima stagione Era divertente Insomma È la solita cosa Dei supereroi Che vengono Non sono veramente buoni Sono cattivi È figo Insomma Buttare giù un po' Questi Questi cosi Dietro c'è sicuramente Un'allegoria Al governo americano Che non è veramente buono È cattivo E quindi Capito Il supereroe americano Chi sembra buono In realtà È quello che vi voglio dire io Chi sembra buono Che vi propina All'inesima stagione Di Stranger Things O di The Walking Dead In realtà non è buono Vi sta solo usando E vi sta solo Manipolando Facendovi Appiattire culturalmente Facendovi Cambiando il vostro gusto Omologandolo Solo Esquisizemente Al menu Che vi daranno loro Cioè È questo Quello che Che vi voglio Vi volevo spiegare Con questa live Che sicuramente Poi è andata anche Nel The Boys Poteva venire un film Poteva essere usato Uno sceneggiatore serio E una Bravo Infatti Veniva un bel film Sicuramente Non indimenticabile Ma perché Comunque all'interno Non ci sono Grandi tematiche È un film ironico C'è molta ironia Io trovo Molto più intelligente Non so Un film come Idiocracy Non so Non so perché Mi viene in mente Ma perché Comunque The Boys È un film ironico Nonostante ci sia Tutta questa violenza È ironico Cioè Dai Il ragazzo Che Che passa L'uomo super veloce E gli spapola La fidanzata Davanti agli occhi È una roba Che non Lascia un po' il tempo Che trova Fa ridere Perché È una È una cosa Che ti prende Contropiede Non te lo aspetti Come le battute Alcune battute Sono Sono molto Fuori dagli schemi Ma sono fuori dagli schemi Negli schemi Che loro hanno deciso Che vanno bene Per farti ripiacere A te E seguendo il gusto Che poi tu Dovrai amalgamarti A quel gusto E fine Basta Non è la vera Non è il vero Andare contro Il vero Andare contro Sono altri Sono gli indipendenti Che vanno contro Che fanno il cazzo Che vogliono Comunque Chiudiamo qua Bevo un po' D'acqua Perdonatemi Se faccio rumori Perdonatemi Se mi infervoro Perché io Una cosa che detesto È non essere capito E quando Poi Mi viene detto Ah ma quella è bella Quella è bella Quella è bella Io non sto parlando Se è bello o brutto Perché bello o brutto Ragazzi Mi piace Non mi piace A parte che Questo discorso L'ho già fatto Se una roba vi piace Non vuol dire che sia bella Cioè Se è bella Deve essere Deve essere Argomentato Tramite un ragionamento Ok Se io vi dico che Noi è bello Per quello che vi ho spiegato Per quello che vi ho spiegato prima Noi Non Non Ion Ma noi Cazzo Ve l'ho spiegato Ve l'ho spiegato In maniera molto veloce Però Io Io veramente ragazzi Se sono disponibili Mandatemi in direct Dei messaggi Non stiamo a fare Le discussioni Pim pum pam Ma questo Ma questo Cioè Argomentando Con un paragrafo Due Di roba Mi spiegate perché American Horror Story O un'altra serie È un prodotto Intellettualmente valido Cioè Che produce Una crescita O emotivo O intellettuale Spiegatemi Se è così Allora Valuterò Le cose Che mi scrivete E ragionerò Se ho sbagliato o meno Ma non credo Di aver sbagliato Visto che Non Non mi sembra Che io non riesca A capire Ciò che viene detto Nelle robe Nella prima stagione Di American Horror Story Non viene detto Un cazzo Niente Di interessante Niente di intrigante Basta Che poi American Horror Story Sia una serie Un po' coraggiosa Perché fa Quella sgommata Fuori da Talle mutande Come lo fa The Boys Come fa The Boys Anche The Boys Fa tanto L'irriverente Ma ragazzi Ma io Io sono Ho un passato Da punk Ascoltavo musica Ma vero Di quelli veri Non come Come quelli che vedete adesso Che si sentono tutti Per me questa roba Non è per nulla Sfrontata Ma questi non sanno Neanche cos'è Essere sfrontati Essere contro il sistema Io non so Dove vive la gente Ma ragazzi Ma questa roba A me non mi sconvolge Per nulla Guardatevi Atrox Guardatevi Bellissimo Found Cazzo Ma come si fa A paragonare Ste robe Quindi Detto ciò Guardate pure Le serie Le guarderò Anch'io Senza appunto Sbattere via Tutta la mia vita Per sapere se The Walking Dead Beyond War Beyond È bella o brutta Non mi guarderò Tutta la serie Ve lo dico già È una merda E vedendo il secondo episodio Continuerò a dire Che è una merda Al massimo Se il secondo episodio È più bello Potrò dire Ah beh Il secondo episodio Si ripigliano atti Ma stiamo parlando Comunque di un panino Di McDonald Cioè Non di qualità Punto Cioè Questo è Questo è Finché uno Non mette sul piatto Questa serie È un capolavoro Per questo motivo Trovatemi la serie Capolavoro Oppure Un cazzo Vi voglio parlare Velocemente Di Nightmare Symphony Che è un film Orrindipendente Che è un omaggio A Lucio Fulci Di Cristiano Domiziano Cristofaro Con l'aiuto di Daniele Trani Mi sto aiutando Con la recensione Domiziano Cristofaro È un regista indipendente Per me Fuori di testa Ma nel senso positivo E purtroppo Ho visto solo questo film E andrò a ritroso A guardare anche gli altri Se te trovi Do mi darà la possibilità Di vederli Spero anche di averne Qualcuno in collezione Perché mi Nightmare Symphony Mi è piaciuto un sacco Quindi vediamo Se riuscirò ad averli Oppure Comprarmeli In qualche maniera Ed è una specie Di reboot Di un gatto nel cervello Nel film Di Lucio Fulci Dove lui Combatte contro I propri incovi E i propri film È una specie Di film Metacinematografico Che in America O comunque A livello internazionale È stato distribuito Con il nome Di Nightmare Concert E da qui Nasce l'idea Di chiamare Nightmare Symphony Questo reboot Tra l'altro All'interno del film L'attore principale È Frank La Loggia E voi direte Chi cazzo è Frank La Loggia Perché è veramente Un personaggio Molto molto Di nicchia Nel mondo dell'horror È il regista Di un film Bellissimo Che vi consiglio Che si chiama Scarlatti il thriller In realtà In America Si chiama Lady in White Non so perché L'hanno chiamato Scarlatti il thriller Comunque Scarlatti È il ragazzino Protagonista Ah mi spiace Che dovete andare via Dai Comunque adesso Poi chiudo Peccato perché Volevo parlarvi Di Nacobi Halloween Fest Vabbè Mi spiace Comunque finisco Di parlare Di Di questo reboot Che è ambientato In una specie di paese In città non definita Del Kosovo E lui è un regista Che deve finire il suo film E succedono degli omicidi Ed è un film anche questo Metacinematografico Ciao Thomas Ciao Sara Buona serata Metacinematografico Dove appunto Si Si mischiano Scene dei film Con scene di vita reale Ed è Insomma Se avete visto Un gatto nel cervello Capirete che Che tipo di film Possa essere Anche se Nonostante tutto Il film è scritto In un modo Tra l'altro è scritto Dallo stesso sceneggiatore Di Di un gatto nel Uno degli sceneggiatori Di un gatto nel cervello Che È Antonio Tentori Ha scritto anche Questo reboot E infatti La storia è molto originale Nonostante sia Ah ma se Non lo guardate dopo Comunque Non dirò molto Perché Probabilmente Voi siete I due Più Più Interessati Insieme a Davide A questa cosa E mi fa piacere E quindi Poi magari Avevate qualcosa Da suggerire Ma lo farete Nel gruppo Telegram Per chi Vuole Comunicare con me Più spesso E avere anche Delle risorse Insomma Chattare praticamente Con me Può iscriversi al canale Telegram Che vi metto qua In chat Anzi Ve lo scrivo Telegram Poi cliccate Cliccate su Unisciti E potrete andare Nel gruppo Lì potremo Parlare di robe Insomma Chi è sul gruppo Telegram È più aggiornato Un po' Su tutte quelle Che sono le attività Nel film Ci sono anche Scene gore Abbastanza Potenti Visto che Domiziano Cristoforo È un regista Di film Horror Gore Estremi Eccetera Quindi Non mancano Ed è molto figo Ci sono tante citazioni È veramente figo A me è piaciuto Poi Frank La Loggia Che è più un regista Che un attore Comunque È bravo Regge bene la scena Mi è piaciuto Veramente tanto Penso che piacerà Questo film Perché Alla fine È confezionato bene Ed è Ed ha anche Una valenza artistica Nonostante sia Una specie Di tributo Ma è un tributo Che non annoia Per nulla Perché poi Alla fine Il risultato È un film diverso Da un gatto nel cervello Visto che Visto che C'è poco tempo Nel senso che Comunque È già un'ora e venti Che parlo Saltiamo Salto un argomento Che volevo affrontare Che riguarda Un Diciamo Una persona Che mi ha giunto Insomma Mi ha giunto Sui social Non è la prima volta Che succede Quindi è un discorso generico Che mi sono un po' Rotto i coglioni E volevo parlare Un po' Di questo atteggiamento Che hanno Insomma Soprattutto i giovani Di Non creare un rapporto No? Quindi ti aggiungono Ti chiedono Di mettere like Ti chiedono Ti chiedono già Delle cose Ma senza che tu abbia Senza presentarsi Insomma C'è molta arroganza Ma voglio parlarne In un altro momento Che perché Voglio introdurlo A parlare di social A parlare di queste cose qua Insieme Quindi non ne parlerò Adesso Perché comunque appunto Alla fine abbiamo Abbiamo sforato Perché parlando di serie tv Abbiamo Veramente Divagato Di brutto Penso Spero Spero non troppo Perché Perché poi appunto I concetti non passano E passo all'ultimo Argomento Poi Faccio la prova Faccio questa prova Ma non so se ci sarà qualcuno Di guardare Una Una puntata Di The Walking Dead Su Prime Insieme Su Twitch Una roba strana Però voglio vedere Come cazzo funziona Quindi ci provo L'ultimo argomento È Annacobi Halloween Halloween Party Quest'anno Non c'è stato Raduno Di Non apete questo blog Mi dispiace Tantissimo Ma sapete che c'è il covid Adesso sono tornate Obbligatorie Le mascherine Per strada Chissà Forse ci sarà Un altro lockdown Tiè Speriamo di no Ma è veramente Se succede Probabilmente la gente S'ammazza Perché abbiamo Una tolleranza Bassissima Ho deciso Anche suggerito Da Sara Ma suggerito Anche in passato Anche da Davide Perin Che Trovate su Instagram Come watch film Attivissimo Di fare Un raduno Virtuale In diretta Quindi praticamente Chiunque vorrà Partecipare A questo raduno Potrà Cliccare Sul Intanto Vabbè Dovrà Prima appunto Entrare in contatto Con me Devo sapere Chi è Perché non è che Faccio entrare Chiunque Non si sa mai Che magari Trovi qualche Pazzoide Che ti vuole Un po' Boicottare E Praticamente Saremo tutti In cam In questa sorta Di Raduno Aperitivo Di NQB Quindi tutti Quelli che Seguono NQB E che Sono affezionati A questo progetto E hanno voglia Di farsi vedere Dire la propria La modalità Per partecipare È Quella di Contattarmi Privatamente O sul profilo Instagram O su Telegram O Anche sulla pagina Facebook Di Nonapertico Blog E ovviamente Mi sto riferendo Alle persone Che conosco Con cui almeno Ho scambiato Delle parole Eccetera So chi sono Se avete voglia Di stare con noi In live Parleremo In modo Molto Molto Rilassato Quindi senza Cioè Molto cacciarone Parleremo Di Horror Insieme È Richiesto Il travestimento Ma Non è Obbligatorio Quindi Potete Anche Avere Anche Solo Un gadget Eccetera È Richiesto Di avere Una bevanda Per fare Un brindisi Non necessariamente Alcolica E Quindi Per farlo Sembrare Proprio Un aperitivo Insomma Noi abbiamo Già fatto Una cosa Del genere Con Cinque Sei Persone La trovate Sul canale Youtube Se volete Vedere È Veramente Molto Simpatica E L'unica Diciamo Cosa che vi chiedo Se volete Partecipare È Di avere Con voi Una copia Fisica Di un vostro Film preferito In modo che Comunque potete Ognuno di noi Possa portare Un Un film preferito Non deve essere per forza Il film preferito In assoluto Ovviamente Horror Non deve essere per forza Il film Horror preferito Ma Uno dei preferiti Insomma E poi Se avete voglia Lo fate solo vedere Oppure potete raccontare Un aneddoto O Altre cose Questa è un po' L'idea Per Il raduno Di non aprite questo blog Sapete che Parlare Così tanto Ti si Secca la lingua Questo è Un po' tutto Ragazzi Per la live di oggi Sono stanchissimo Ed è stata una live Un po' particolare Un po' Un po' rabbiosa Da parte mia E me ne scuso Perché comunque Quando non vengo Capito Invece che Con calma Spiegare Che Diciamo La discussione È entrata In una modalità Che non era Quella che Volevo Mi infervoro È una cosa Che mi irrita molto È non essere Insomma Non essere Sulla stessa linea d'onda Quindi se io parlo Di Contenuti Qualità Delle serie tv Non è che sto parlando Del fatto Che non sono Che sono Spazzatura E basta Chiaramente Poi se uno usa Questi termini La gente si sente offesa Io pure Va bene Ragazzi Con questo Ho finito Metto In stop Questa live E tra Una decina di minuti Faccio partire Una live di prova Non so quanto resterò In realtà Non so se la terrò Tanto O la O la cancellerò O stopperò Dopo dieci minuti Se siete interessati A vedere l'inizio Del secondo episodio Di The Walking Dead War Beyond Con me Io L'audio Questa serie Già Dopo aver visto Il primo episodio Per cui Boh Vedremo Insomma Come va Vi ringrazio tantissimo Di aver seguito La live Vi ringrazio tantissimo A quelli che la vedranno Indifferita Sia su Twitch Che su Youtube Grazie di tutto Torneremo Sull'argomento Perché a quanto pare Non basta Non basta Per farsi capire E quindi Boh Cioè Farsi capire Nel senso che Non dico che Mi devo far capire Perché ho ragione Io Però Non voglio spostare La discussione Sul fatto che Io dico Che le serie tv Fanno cagare E basta Come appunto Anticipato Ci sono delle serie tv Valide Come appunto Twin Peaks Breaking Bad La stessa La stessa The Boys È una serie carina Però io sinceramente Vi chiedo Anche commentando Non lo so Mandandomi messaggi privati Ciao Luca Luca Carda Anche mandandomi messaggi privati Vi chiedo veramente Cioè Di fare uno sforzo Se davvero siete convinti Che io Stia sbagliando Ditemi Quale serie tv Potete considerare Un capolavoro Un capolavoro Paragonabile A un film di David Cronenberg O John Carpenter Insomma Ci siamo capiti Se così Fosse Allora potrò Anche fare un passo indietro Ma credo che Non farò passo indietro Su questa cosa Perché è impossibile Poi Detto ciò Non significa Che in futuro Non ci possano essere Serie tv Valide Più valide Più interessanti Da un punto di vista Intellettuale E Detto ciò Non significa Che non esistano Già attualmente Delle serie tv Che io non conosco Che sono fatte In un certo modo Per esempio C'è una serie tv Su TV Di Ivan Zuccon Che Che è ispirata A Lovecraft Che Comunque È fatta Con un altro concetto Non è fatta Come prodotto Di consumo Commerciale È una serie indipendente Quindi Già È fatta Con un'altra mentalità Va bene Grazie a tutti ragazzi Ci vediamo Tra poco Se volete Seguire con me Fare questo esperimento Strano Perché Twitch Veramente fa Degli esperimenti Strani Un abbraccio E Volemo se bene Come sempre Grazie a tutti Grazie a tutti